Ciao a tutti ragazzi, oggi voglio parlare di art come dove mi ha mandato questo bellissimo carlion io ho scelto come disegno l'angelo custode da appendere comunque nella culla, nel passeggino e la particolarità di questo carlion è appunto che ti va a suonare l'Ave Maria quindi questa è una cosa bella e molto particolare allora vi faccio vedere diversi soggetti abbiamo da Gesù a San Francesco a Padre Pio la Beata Vergine Maria, San Giuseppe, insomma ce ne sono tantissimi io ho scelto l'angelo custode all'interno del pacco troviamo questo nastrino da poterlo comunque attaccare io ovviamente ho messo il nome personalizzato del bambino qui sotto che ovviamente non vi farò vedere però poi ve lo farò vedere più là e quindi niente ragazzi potete contattare Articum per poter avere questo graziosissimo carlion grazie ancora grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.